Al termine del conflitto Enzo Ferrari, a immagine e somiglianza della mitologica fenice, risorge. In primo luogo, essendo scaduto l'impegno assunto con l'Alfa Romeo, muta il nome dell'azienda attribuendogli il proprio e immediatamente dopo inizia lo studio, la progettazione e la realizzazione della prima vera vettura Ferrari. Si tratta della 125 Sport, una barchetta con motore 12 cilindri da 1.500 cm3 di cilindrata che, affidata alla guida di Franco Cortese, debuttò in gara l'11 maggio 1947 al circuito di Piacenza. Fu costretta al ritiro all'ultimo giro quando si trovava in testa alla corsa. L'inizio venne considerato molto promettente e solo due settimane dopo, esattamente il 25 maggio 1947, la stessa vettura e lo stesso pilota vinsero il Gran Premio di Roma, disputato sul circuito di Caracalla. E' questa in assoluto la prima vittoria di una Ferrari in una corsa automobilistica. Nel 1950 si disputa la prima edizione del campionato del mondo di Formula 1, al quale ovviamente partecipa anche la Ferrari, così come unica squadra a farlo, a tutte le successive edizioni sino a quella di quest'anno. Non raccoglie successi diretti, anche se Enzo Ferrari ha la soddisfazione di vedere vincente in sei Gran Premi su sette disputati, la Alfa Romeo 158, quella alfetta che lui aveva realizzato nel 1938, ben 12 anni prima. Per la cronaca, il campionato viene vinto da Giuseppe Farina, primo al traguardo in tre Gran Premi, così come Juan Manuel Fangio, anche egli su Alfetta. Nel 1951 si comincia a vedere la luce. Il 14 luglio, nel Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone, Freulein Gonzales, soprannominato El Cabezon per le ragguardevoli dimensioni della sua scatola cranica, ottiene il primo successo per una vettura Ferrari, al quale faranno immediatamente seguito quelli di Alberto Ascari nei due successivi Gran Premi, quello di Germania al Nürburgring il 29 luglio e quello di Italia a Monza il 16 settembre. Il 1952 è l'anno del trionfo. Inizia Piero Taruffi vincendo il Gran Premio di Svizzera il 18 maggio e dopo la corsa di Indianapolis prima di risultati favorevoli, Alberto Ascari vince tutte le restanti sei corse della stagione, sempre con la stessa vettura contraddistinta dal telaio numero 5 e si laurea campione del mondo. A questo primo successo mondiale ne faranno seguito altri 14. Ancora Alberto Ascari nel 1953, Juan Manuel Fangio nel 1956, Mike Hawthorne nel 1958, Phil Hill nel 1961, John Surtis nel 1964, Nicky Lauda nel 1975 e nel 77, Jodie Schechter nel 1979, Michael Schumacher con la fantastica cinquina dal 2000 al 2004, ed infine Kimi Raikkonen nel 2007. Ma la Ferrari conquista anche per 16 volte il titolo mondiale costruttori, ottiene 242 vittorie di Gran Premi, realizza ben 85 doppiette, primo e secondo posto. Per cinque volte monopolizza il podio ed in tre occasioni al Gran Premio di Germania nel 1952, al Gran Premio d'Italia nel 1960 ed al Gran Premio del Belgio nel 1961, fa addirittura poker, piazzando le proprie vetture al primo, secondo, terzo e quarto posto della classifica finale della gara. Giusto per la cronaca e a titolo di curiosità, vi è da dire che dopo la prima vittoria ottenuta da González, la cinquantesima ha visto Nicky Lauda tagliare per primo il traguardo nel Gran Premio di Spagna del 1974, la centesima è arrisa ad Alain Prost nel Gran Premio di Francia del 1990, la centocinquantesima è stata a merito di Michael Schumacher nel Gran Premio del Canada del 2002 e la duecentesima ha visto sul gradino più alto del podio Kimi Raikkonen nel Gran Premio di Cina del 2007. A questi risultati, aggiornati al 31 dicembre 2022, vi è da aggiungere che le vetture Ferrari nei 1052 Gran Premi disputati hanno fatto registrare 230 pole position, 258 giri veloci e 798 piazzamenti sul podio. I successi della Ferrari però non si limitano al campionato del mondo di Formula 1, ma si estendono anche alle più famose e consacrate corse di durata, disputate in ogni parte del mondo, valide per il campionato del mondo sport prototipi. Infatti, le vetture del Cavallino, citando solo le manifestazioni più importanti, giunsero prime al traguardo, per 5 volte, alla 24 ore di Daytona, alla 1000 km di Monza e alla 1000 km di Parigi. Per 6 volte, alla 1000 km di Buenos Aires e dal Tourist Trophy, vinto consecutivamente per 5 volte, dal 1960 al 1964. Per 7 volte, alla 1000 km del Nürburgring, con 4 vittorie consecutive, dal 1962 al 1965. Alla 1000 km di Spa-Francorchamps, con 6 vittorie consecutive dal 1961 al 1966. E dalla 24 ore di Le Mans, con 6 vittorie consecutive dal 1960 al 1965. Per 8 volte, alla Targa Florio, la gara più antica, essendo stata a corsa la prima edizione nel lontano 1906. Alla 12 ore di Sebring, con 4 vittorie consecutive dal 1961 al 1964. Alla 9 ore di Kajalami, con 5 vittorie consecutive dal 1962 al 1966, tutte ottenute da Piper. E dalla 1000 miglia, con 6 vittorie consecutive dal 1948 al 1953. E Dulcis in fundo, per ben 13 volte, al Tour de France, con 9 vittorie consecutive dal 1956 al 1964. Giova Rammentare, che per celebrare questa incredibile messa di successi in terra francese, venne prodotta in un limitato numero di esemplari, una versione speciale della 250 GT, denominata appunto Tour de France, e dotata di una livrea riproducente i colori della nazione transalpina. A titolo di curiosità, vi è ancora da dire che, a distanza di 60 anni, è tuttora presente nella gamma colori delle vetture attualmente in produzione, il Bleu Tour de France. Tra tutti questi successi, ritengo che due siano particolarmente memorabili. Il primo è quello ottenuto alla 24 ore di Daytona nel 1967. Grazie alla sapiente regia del direttore sportivo e dalle segnalazioni dai box attraverso i cartelli esposti dai meccanici, tre vetture Ferrari giunsero contemporaneamente sul traguardo, l'una affiancata all'altra, in una parata ideale, finalizzata a sancire la superiorità assoluta del cavallino rampante attraverso la conquista dei primi tre posti della classifica finale. Per la cronaca, vinse la numero 23, pilotata da Lorenzo Bandini e Chris Hemon. Il secondo è quello riportato da Pietro Taruffi nell'edizione 1957 della Mille Miglia, l'ultima disputata a causa delle accese polemiche, sorte a seguito del terribile incidente che vide la Ferrari del barone Alfonso De Portago, un nobile spagnolo, valente gentleman driver, dedito con frequenza alla vita mondana e alle belle donne, uscire di strada a quasi 300 km all'ora su un rettilineo di guidizzolo, provocando la morte dello stesso De Portago, del suo meccanico che era al suo fianco sul sedile del passeggero e di numerosi spettatori, tra cui alcuni bambini. Taruffi, alla verde età di 51 anni, corona il suo sogno di vincere almeno una volta quella che viene unanimemente definita la corsa più bella del mondo e subito dopo aver tagliato il traguardo di Brescia, annuncia il proprio ritiro dalle competizioni, così onorando la promessa fatta alla moglie di appendere il casco al chiodo qualora avesse conquistato l'alloro nella Mille Miglia. Particolare e toccante sta nel fatto che il giovane barone Wolfgang von Tripps, rampollo di una prestigiosa casata tedesca, venuto a conoscenza prima della partenza della promessa fatta da Taruffi alla consorte, evitò accuratamente di sorpassarlo pur avendone la possibilità, in modo tale da lasciare al ben più anziano compagno di squadra l'onore della vittoria. Oltre 10.000 sono stati successi ottenuti dalle vetture Ferrari in competizioni svoltersi nei cinque continenti. Questo dato ha fatto sì che Henry Ford Junior, il magnate dell'anonima industria automobilistica americana, un giorno dicesse con un pizzico di invidia io spendo una fortuna per pubblicizzare le mie macchine mentre il signor Ferrari ogni lunedì è sulle prime pagine di tutti i giornali senza spendere un cent.